In questo momento qua riposiamo ma molto tra virgolette, cioè già stiamo lavorando su cose fondamentali per la prossima partita. Sì, diciamo che comunque andare a giocare lì a Bologna sarà abbastanza tosta per tutti quanti visto il clima che c'è lì, però diciamo che noi vogliamo sfruttare questo momento qua di difficoltà da parte loro per cercare di rubare due punti. Diciamo che dall'inizio dell'anno ne parliamo di questo campionato di A2 come se fosse praticamente una 1 mascherata. Secondo me è un briciolo di esperienze in più perché diciamo che noi ci siamo amalgamati bene come squadra, cioè assieme ci troviamo molto bene, ci divertiamo, ci passiamo la palla, c'è soprattutto entusiasmo anche da parte della città, quindi io penso sia mancato quel briciolo di esperienze in più, però penso che possiamo dar fastidio a tutte le formazioni di questo campionato. L'obiettivo è sicuramente la salvezza, però visto come sta andando il campionato, come giochiamo, e comunque abbiamo visto che abbiamo quasi rubato dei punti importanti a formazioni molto importanti, quindi perché no? Grazie a tutti.